Buonasera, io sono l'Italian Food, siamo al Salone organizzato in occasione di Cibus, qui con Francesco Bombardi, grazie Francesco per essere qui con noi. Grazie a voi. Innanzitutto ti faccio un paio di domande che ho fatto conoscere meglio dai nostri amici. Vi chiedo di presentarti brevemente e di raccontarci come nasce la tua passione per il cibo. Bene, mi chiamo Francesco Bombardi e tra me il cibo non è stato amore a prima vista, è stata una conquista graduale e progressiva che ancora continua. E come molte volte succede, mi sono dovuto trovare lontano dal valore della nostra tradizione per poterla apprezzare. Per cui io viaggiando, ho vissuto qualche anno all'estero, ho avuto questa opportunità di mescolare un po' la scoperta di nuove culture con la riscoperta della nostra cultura, che è quella del cibo, proprio nel momento in cui mi mancava perché quando ce l'hai lì, ci nasci dentro, non te ne rendi conto. Tutto questo un po' mescolato anche con una curiosità che viene dalla mia deformazione professionale, essendo io architetto, quindi avendo una curiosità particolare per l'esperienza dello spazio, per cui per me l'esperienza del cibo incomincia nello spazio in cui lo consumi, quindi l'atmosfera, le persone, la compagnia, è tutto un insieme che rendono l'esperienza del cibo completa. Se invece dovessi ospitare qui in Italia un amico che viene dall'estero, tu hai detto che hai abitato fuori dall'Italia per qualche anno, un amico che viene qui per la prima volta, c'è un piatto in particolare che gli faresti assaggiare, un piatto tipico che gli consiglieresti di assaggiare subito? Qui mi voglio smarcare, sappiamo che ci sono tantissime culture diverse, per cui essendo la nostra tradizione molto ricca e varia, mi prenderei il tempo di interpretare dei piatti, dei piatti diversi a seconda della provenienza e anche del carattere dell'amico che viene a trovarmi proprio per costruirgli un'esperienza proprio su misura, come un sarto che però produce un abito, però naturalmente con tutti i tessuti made in Italy. Parlando invece un po' della tua esperienza e dei tuoi studi, per quanto riguarda la tua ricerca sul design e sul tuo design, e per quanto riguarda anche i processi di fabbricazione digitale, di democratizzazione della produzione, quali sono le nuove opportunità che gli salvanti 3D riguardo al cibo possono avere, possono darci, cosa ci possiamo aspettare diciamo? Sì, il mondo della fabbricazione digitale è un po' l'ultimo viaggio che ho intrapreso, per cui anche per me è stata una scoperta di sicuramente opportunità nuove per fare della propria cucina un vero e proprio laboratorio di sperimentazione, per cui vedere queste macchine che siano stampanti 3D o che siano piccole frese, robot o comunque kit per la produzione o l'autoproduzione di prodotti anche nostri tipici costituiscono una grande opportunità per noi per sperimentare, per mescolare un po' la tradizione con la nuova tecnologia. Si dice che il futuro è ancora antico, secondo te il cuore dell'innovazione tecnologica qual è? Il cuore, mi piace pensare che comunque il futuro ci dia la possibilità di riscoprire delle parti anche del passato che abbiamo perso, su cui ci siamo un po' distratti. Per esempio il processo di stampa 3D della pasta, che è un tema abbastanza attuale, essendo anche qui a Parma ne ha parlato Barilla che ha fatto delle sperimentazioni con un ufficio olandese, TNO, su questo tema, ci permette di vedere la pasta non più come una forma finita, ma come miscela, quindi andare a monte a riscoprire la materia prima che costituisce gli alimenti e dare la possibilità a tutti, avendo questi mezzi a disposizione, di reinterpretare il processo partendo da molto più indietro. Quindi per me questa è la vera opportunità, la sfida del futuro è anche questa, di riprendere dei dati del passato e interpretarli in una chiave moderna. Tornare indietro, andare avanti per tornare indietro e poi ritrovarci comunque con un bel piatto e naturalmente deve essere buono perché la sperimentazione altrimenti rimane chiusa nelle aule di laboratorio, invece noi li vogliamo portare in cucina. Ringraziamo per essere stato il nostro ospite allora e ci vediamo al prossimo incontro. Grazie a voi. Grazie. Grazie.